Bella ragazzi ed eccomi tornato, sono Godsfrax, un nuovissimo video sul mio canale, incredibile, non mi sono impappinato con le parole, dislessia sconfitta. Oggi siamo con un video su FIFA 15, è uscita la demo per Xbox One, l'ho scaricata, erano più di 3 giga e quindi questo video magari lo avrete a metà pomeriggio, però l'ho scaricata, eccomi qua. E praticamente ho già scelto, come potete vedere adesso, ho già scelto la mia squadra su Ultimate Team, perché sì signori, nella demo c'è anche Ultimate Team. Ovviamente è un Ultimate Team dove non si gioca contro altri avversari, ma sempre contro il PC, però ovviamente con tutte le dinamiche di Ultimate Team. Ho fatto questa squadra dove c'è Ibrahimovic, Messi, Neymar, insomma è una squadretta così proprio, va bene? E quindi diciamo che possiamo subito andare a cercare la partita. Ok, siamo pronti, Roma-Celsi, attenzione, qui c'è la gestione squadra, potete vedere un po' com'è l'interfaccia, quello che vi dicevo durante, insomma, i video che feci di FIFA 15. Vabbè, diciamo che possiamo tranquillamente giocare la nostra partita. Vabbè, non ci interessa delle animazioni che dà all'inizio, vediamo tanto sotto, carino, che c'è questa schermata, insomma, che fa vedere tutti quanti i giocatori. Allora, una cosa che ho notato su FIFA, praticamente ho fatto solamente per ora una partita su FIFA 15. No, vabbè, fu l'incorzissimo. Ho fatto solamente una partita su FIFA 15 ed era quella che, quando, insomma, inizi la demo, non era su Ultimate Team, era una partita normale. Quello che ho notato è che è veramente molto difficile fare i gol, cioè i portieri sono qualcosa di illegale proprio. Mannaggia gli inviti. Ok, eccolo Messi. Il suo sinistro e c'è il gol. Subito, subito. Leonino, il piccolo Leoncino Messi, incredibile. Tanto figata pure la telecamera che si muove, come di burcatraia. Così proprio, Messi subito, guardate tanto figata qua le animazioni, il pubblico, come tutti si esaltano. Guarda quello del campo che è figata, lo stop di Messi e il sinistro sul secondo punto. 1-0, Godfrax, Messi, al nono minuto, decimo ovviamente perché si arrotonda per eccesso. Al decimo minuto, levate palla. Oh, niente, non è impossibile riparla, però ogni tanto fanno gol di genere. Vabbè, non a quello, idiota, all'altro. Guarda, non posso levargli la palla. Vorrei giocare anch'io se è possibile. Allora, una cosa tipo che è impossibile da fare su Fio-15 fortunatamente sono i colpi di testa. Cioè, ovviamente non è che non ci saranno i colpi di testa, perché sarebbe un po' una stronzata. Cioè, comunque nel calcio si fanno i gol di testa, però nel calcio sono meno i colpi di testa che i gol normali, insomma. Quindi, vengo a fare altro. Quindi, ovviamente, cioè i colpi di testa si segnano lo stesso su testa, di testa, mannaggia la dislessia. Però è sicuramente molto difficile farlo. Cioè, bisogna fare veramente un buon cross ed essere in una posizione adeguata per fare un colpo di testa. Dai, Ibra, cioè, oddio, oddio Messi, oddio, che cosa, dove, perché hai tirato lì, perché, non ha senso, non ha senso. Ma, dai, dai, Ibra, non puoi lasciarla. Cioè, non so a che modalità è preimpostato, insomma, che stia giocando, però, penso sia, cioè, non è né dilettante, né principiante, là, come cazzo si chiama. Ok, Ibra, prendila, tranquillo. Ragiona, Ibra non fa le skill. Ibra non fa le skill, va bene. Guardalo! E non è fallo, perché dici, vabbè. Guarda, non gli si può levare la cazzo di palla. È incredibile. Quanto odio giocare contro il PC. Guarda, eh, Ibra non ci arriva. Non ci è arrivato, non è vero. No, mannaggia la puttana! Ok, Cavaglie. Cavaglie non dorme, capito com'era? Oh, attenzione, però, Messi. Olè! Olè! Tiro a giro di Messi. Secondo palo, sempre così. Ed è gol. Ed è un gol! Ed è un cazzo di gol! 2 a 0! 2 cazzo a 0! Il piccolo Leoncino! Guardalo! Com'è fiero con la sua criniera, guardalo! 2 a 0, sessantesimo. Incredibolo! Ok? Oh, 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 oh! Rigorincino! Rigorincino! È un rigorincino? No, no, come non è un rigorincino? Ok, Messi. Messi, metti la tua, eh. Messi, eh sì. E direi così. Vai, Messi. Troppo forte. No, era perfetta. Mannaggia la puntana, Messi. Madonna, me ne avevo palle! Me ne ho... Oddio, che cazzo fai? Che fai scemo il portiere. Portiere ubriaco. Ah! Ah! Madonna mia! Non ci guarda, l'ho presa io o l'ho presa? L'ho presa io! Dove è attirato? Rientra. Tiro a giro di Ibra. Oddio, Ibra! Oddio, Ibra! 82esimo. Si fa, si fa... La battita si fa... Ma cos'è? Ma perché tu ti ubriachi stanno? Oddio mio, che palletta gli avevi dato? Check, 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 check. Palla! Oddio, Ibra! Ibra c'è. Eccolo, 3 a 0. Eccolo, eccolo. Oh! Madonna mia, Ibra, ma che ti sei magnato! È finita. È finita la partita. È finita la partita. 8,5 per Messi con due gol. Va bene. Va bene, niente. La partita è finita. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a lasciare un mi piace e andare sulla pagina di Facebook a cliccare like sulla pagina di Facebook. Quindi fatelo. Da Godfrax è tutto, signori e signori. Ci vediamo presto con nuovi video sia su FIFA 15 che su FIFA 14 che su altri giochi e ovviamente dal 24 settembre su FIFA 15. Bella!